Capito? C'è anche una pubblicazione su PubMed, una pubblicazione scientifica, che parla di questo esperimento che se vuoi possiamo farti avere. Quindi, ecco che cos'è il test dei telovere. È un modo per andare a vedere esattamente qual è la tua biologica, quella vera, quella dentro le cellule, quella dentro il nostro DNA. Questo test non ci dice in che direzione andare, non ci dice qual è la dieta ideale, non ci dice qual è l'integrazione ideale, ci sono altri test per farlo. Il fatto è che questo corrisponde esattamente a un esperimento che è stato fatto dall'Università di Creta, in cui sono state sottoposte, un gruppo di persone, sono state sottoposte a integrazione personalizzata, cioè gli è stato dato una dieta, diciamo così, o meglio delle indicazioni di massima, per non fare grossi errori alimentari, e l'integrazione corretta e precisa. E questo gruppo, rispetto a un altro gruppo di persone che sono state osservate, ha mostrato che sei mesi dopo di integrazione fatta bene, avevano i telomeri più lunghi del 13% rispetto al gruppo di controllo che non aveva preso l'integrazione.